Sì, direi basta, no? Signor Lorenzo, guardi lassù. Sì, bravo. Guardi lassù, guardi lassù. Sono le schiacci più vecchie del mondo. Io mi giro e tu mi sposti il cavallo. Cioè, c'ho bisogno di usare questi mezzucci per batterla. Per l'ennesima volta, scacco matto. Adesso guardi lassù, guardi, guardi, davvero, signor Lorenzo. Ma io non l'ho mai vista, la fortuna a scacchi non l'ho mai vista. Infatti è un gioco di intelligenza. Guardi, guardi, guardi. Sta bene, sta a muoverti, non sta a gestarti. Gira, vai il suo parcheggio, vai, aiuto! Ho paura! Guarda che ti stacca, lo so! Che imbecile! Io? Sì, certo. Oltre a te, dico. Papà. Giacomo. Oh. Mi senti? Poi, stai bene? Hai visto, piccola? Tuo papà non ha paura. Lo so che non hai paura, papà. Eccolo qua, il nonnone. Ha portato il panettone. È il nonunco il panettone. Oh. Come va, Icaro? Oè, hai fatto un bel tuffo nel lago, eh? Papà, non scherzare, dai. Non lo vedi come sta? Ma come sta? Sta benissimo. Adesso mangia una fede di panettone, si alza e vado a Don Michele che lo sta aspettando. Don Michele? Sì, è la confezione. Ma che dici? Come che dico? C'è la messa di Natale. Ragazzi, le cose vanno fatte bene, o no? Certo, pure la messa adesso. Sì. Ma se tu non ci vai mai? A parte che ogni tanto ci vado. Poi le cose vanno fatte bene. Se si fa la... Oh, se non volete farlo, amici come prima, e ho detto tutto. Va bene. Lo faccio, però è una cosa veloce, va bene? Grazie.